incredibile infine vi voglio segnalare vi voglio segnalare l'unico caso al mondo di un conduttore barra giornalista che invita nella stessa trasmissione i suoi due editori è un caso clamoroso è un caso è un caso clamoroso non è la prima volta che uno ne inviti una di persona cioè un solo editore c'è un caso particolare che nella stessa puntata attenzione 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 nella medesima puntata a distanza di un quarto giuro ma un attimo c'è un solo giornalista presente nel globo terraqueo che invita entrambi gli editori con sleccate di culo ovviamente salamelecchi certo non a schiena dritta i suoi due editori questo giornalista si chiama di nome David è di cognome vi faremo sentire tutto però per iniziare per diciamo in qualche modo per calmare gli animi per favore i violini per favore i violini datemi i violini è il tuo momento caro David l'unico giornalista nel globo terraqueo ad avere invitato nella medesima trasmissione a una distanza di circa un quarto d'ora senza nessun incrocio per carità dovessero dire qualcosa di sconveniente i suoi due editori uno un editore un editore diciamo tradizionale tradizionale signor Cairo l'altro un editore diciamo per i prodotti diciamo per quattro anni diciamo il capo della della confindustria partiamo dal signor Cairo partiamo dal signor Cairo vai era lì era lì al convegno e l'abbiamo intercettato con le nostre telecamere ma non mi sembra una cosa strana allora Miluzzi ti vedo in compagnia del presidente Cairo buongiorno 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 Davide buongiorno a tutti buongiorno come andiamo? bene bene siamo stati qui al convegno diciamo i dieci anni di Confindustria Radio e TV quindi insomma bene si è parlato di televisione di quel che si deve fare di qualche piccolo sostegno che va dato anche alla televisione che tutto sommato non ne ha avuti piccolo sostegno pure i soldi volete volete pure i soldi no attento ma benissimo industria del cinema prosegue la conversazione la conversazione prosegue era l'oggetto del convegno della Confindustria dieci anni di Confindustria della televisione la tua azienda la tua stessa azienda la tua stessa azienda non dico niente la domanda in onda devi contestualizzare tra l'altro noi facendo facendo anche oltretutto anche molto servizio pubblico perché certamente se uno guarda la sette vedi i programmi che noi facciamo molti di questi sono proprio dedicati ad informare la gente in maniera molto anche autorevole credo considerando insomma la qualità dei giornalisti che sono da noi e degli ospiti che sono veramente di altissimo livello incredibile ma scusami ma scusami ti faccio una domanda a te che pure lavori per la concorrenza però dovresti riconoscere tu sei pagato dalla concorrenza ma non importa quindi stai facendo un atto sleale di aggressione ma io ti chiedo a me non mi frega niente dell'oggetto della discussione era un convegno ti sei collegato con i tuoi due editori questa è la cosa no uno l'ho invitato in studio nessuno nessuno di questi è totorino ma tu mi stai dici hai invitato il presidente Bono si certo è il presidente della confidustia rilascia dichiarazioni e interviste più importanti quotidiani e l'ho invitato l'area che tira a parlare di economia ma non mi sembra una cosa strana strana la regia ci ha dato il gong che nel linguaggio dell'area che tira è il segno che è il momento della pubblicità immagino che lei non si opporrà al fatto che io devo mandare la pubblicità non mi oppongo io vi saluto non voglio invadere David non voglio invadere la trasmissione di tanti ospiti quindi io vi saluto mi ha fatto piacere di stare con voi qualche minuto e complimenti per come stai conducendo l'area che tira complimenti complimenti David e poi a un certo punto arriva un altro editore vai no era già dentro vedi che stai io ti denuncio no era già dentro Presidente Bonomi è arrivato alle 12.58 l'ambiente è iniziata alle 13 ma stai mandando come se stessi ricostruendo il giallo di non so che cosa ma non c'è nessun giallo era in televisione in diretta che giallo è e allora 13.02 benvenuto negli studi dell'area che tira al Presidente della Confindustria Carlo Bonomi buongiorno buongiorno e grazie per essere qui tra poco vedremo che cosa ha detto poco fa la panetta chi è che hai detto mamma mia non lo so chi è che hai detto mamma mia nessuno ha detto mamma mia solitamente in questa trasmissione partono anche gli applausi lì non è parito nessun applauso in questa trasmissione quando tu inviti i personaggi di quarto ordine incredibile di quinto Jacopo da Brescia il meccanismo è esattamente il contrario Jacopo da Brescia mentre io ho invitato il Presidente della Confindustria Jacopo da Brescia nella stessa trasmissione i due editori un record mai raggiunto ma io faccio molto di più Jacopo da Brescia cambiamo pancia che è meglio forza Jacopo Pronto mi senti? Sì Perfetto Volevo dire che il cruciale grazie